Quinta vittoria consecutiva per la SEA Paragona nel campionato di serie B2. Per la non aggiornata di andata il sestetto guidato da Francesco Eliseo ha battuto 3-0 la Planet Pedal al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. E la settima vittoria per la squadra del presidente Nino Di Giacomo. Le biancazzurre si sono imposte con questi parziali 25-20, 25-15, 26-24. I tre punti sono stati più che meritati, ottenuti al termine di una partita bella ed avvingente che ha divertito il numeroso pubblico presente al Palasport Nicosia. La SEA Paragona ha mostrato tecnica, grinta, carattere e grande umiltà. Nel terzo set è stata capace di una straordinaria rimonta, dopo un inizio difficile recuperato grazie soprattutto al contributo delle ragazze in panchina. Una giornata di sport vittoriosa per la squadra agrigentina guidata da Francesco Eliseo che si prepara al prossimo incontro ed un gruppo dirigente capitanato dalla SEAP di Sergio Vella determinato a regalare successi alla città dei Templi.